La fiera di Marmomac, l'edizione 2015, è comunque un'edizione molto importante, non solo per il suo cinquantenario, però comunque ogni anno si arricchisce di capacità espressive, ci fa vedere un materiale ricco, naturale, nella sua propria matericità, molto bella, molto piacevole. Chiaramente poi la tecnologia aiuta molto questo materiale e ci ritrova a poterlo vedere anche applicato in oggetti di design che si possono replicare in una produzione quasi industriale. Il premio è arrivato già alla sua non-edizione, se non sbaglio, e credo che sia cresciuto notevolmente. Ha premiato aziende molto importanti, già conosciute, e sta premiando anche quelle aziende che finora non si erano forse, o non sentivano la necessità di presentarsi in un certo modo, e quindi via via sono anche cresciute proprio nel loro DNA, proprio attraverso anche un aspetto comunicativo e importante, perché è giusto per ogni azienda presentare il prodotto nuovo, le novità, ma è anche giusto saperlo presentare in un modo molto accattivante, che attiri anche un pubblico non proprio solo di settore, ma anche un pubblico più allargato. Grazie a tutti!